Puoi contattarlo e parlare direttamente con lui 335 65 92 908 Signora Trenzani, cosa l'ha spinta a rivolgersi al Mago Letterius? La disperazione, perché avevo la mia azienda che non funzionava e un giorno leggendo su un giornale la pubblicità che faceva il Mago Letterius ho voluto provare anch'io, ho telefonato, gentilmente mi ha fissato un appuntamento e ci siamo poi incontrati, ho ritrovato di fronte una persona all'altezza di quello che si dice mi ha risolto anche vari problemi oltre a quello attuale e lo ringrazio tuttora però oggi come oggi sto veramente bene, la mia azienda ha ricominciato a funzionare sono contenta e rimarrò sempre una sua cara amica come lui sarà per me ritroverai finalmente il benessere e la tranquillità ogni persona ha un sentiero a volte si cambia direzione perché non si comprende se stessi o per un'opposizione esterna si arriva così a un conflitto e di conseguenza si soffre la guida del maestro Letterius riesce a illuminare il percorso esatto da seguire se non vuoi soffrire più, se desideri superare i tuoi problemi e se sei alla ricerca del giusto sentiero 335-6592-908 questo è il numero che puoi formulare per percorrere il cammino verso la gioia verso l'amore Letterius, sensitivo, operatore dell'occulto parapsicologo, specialista dell'alta magia prano terapeuta riceve nelle principali città d'Italia si sposta anche all'estero visto le grandi richieste approfitta in questo momento mentre sta andando in onda il filmato è proprio vicino a te nella tua città 335-6592-908 se le stelle risplendono significa che qualcuno ne ha bisogno significa che è necessario che almeno una sera una stella brilli sopra il tetto la stella è la grande forza della magia ti aiuta a ritrovare l'amore il successo la fortuna solo con il maestro Letterius specialista di alta magia potrai risolvere tutti i tuoi problemi non è vero che bisogna rassegnarsi impotenti ai colpi della sorte è vero che in monito che in è vero che in